Abbiamo avviato la raccolta differenziata spinta, stiamo raggiungendo il 40% nella media, le grandi città si stanno accodando lentamente, ma supereremo gli obiettivi che abbiamo ipotizzato da tempo, pensando di arrivare al limite legale del 65% dentro due anni. Il piano rifiuti è stato redatto con i criteri di trasparenza, responsabilizzazione e condivisione di una governance che vuole portare le decisioni al basso. Finalmente, dopo decenni, il governo musulmane si è mosso sulle 511 discariche censite, saranno più, saranno meno, stipulando anche una convenzione con altri enti che stanno provvedendo alla caratterizzazione. Di conseguenza, dovremmo anche utilizzare finalmente tutti i fondi che per tempo erano stati accantonati e non utilizzati. Sull'idrico permangono alcune criticità legate alla fognatura, all'approvisionamento di acqua, eccetera. Ci siamo mossi sulle Ato, commissariandole laddove necessarie. Abbiamo anche congegnato un meccanismo tale per cui, rischiando di perdere i fondi europei, europei, se non provvediamo entro il gennaio 2021 all'individuazione del gestore e quindi alla redazione del piano d'ambito, i comuni non erano in grado di farlo, con le proprie risorse. Abbiamo trovato una soluzione con la Casa Depositi dei Prezzi, con la RERA, con il Ministero, condivisa, innovativa, pionieristica in Italia, alla quale adesso abbiamo tolto anche questo alibi. Per quanto riguarda l'energia, c'è il piano energetico che sta procedendo, si sta spingendo molto sugli obiettivi europei, quindi fotovoltaico, energie rinnovabili, smart city, mobilità, eccetera. E su questo pensiamo a uno scenario di occupazione maggiore, soprattutto di occupazione qualificata. Alla fine cosa possiamo dire? Stiamo riformando un sistema complesso, stratificato, che era rimasto paludoso per anni, ma ci stiamo impegnando con coraggio e forza e saremo tetragoni in questo, con la condivisione di tutti coloro che vorranno essere dalla nostra parte come popolo, come persone per bene.